A tutti buonasera dall'Ippodromo del Savio di Cesena, convegno di corse di martedì primo agosto, un martedì che è incentrato sul semifinale del Tommaso Grassi Award Superfrustino 2023 e che avrà come apertura e appendice finale due corse invece non legate al Superfrustino. Lo schieramento della prima sono Puledri di due anni, Forever FaceTime, DVS, Furorsi, Physique Durol, Fringuella Jet, Forever Fly, seconda linea Frivola Griff, Francis Dehari, Furia Love, Baldo, macchina che accelera, partiti, partenza FaceTime, DVS e Physique Durol, Lotto non mentre sbaglia, Furorsi, parte bene dalla seconda linea invece Frivola Griff, insiste subito all'attacco Physique Durol che però incontra l'opposizione di FaceTime DVS, sono i due più attesi, indietro a una quindicina di metri segue Frivola Griff, se ne va il quarto iniziale in 30 secco e sono due debuttanti che hanno iniziato subito comunque sul serio, a fare sul serio fin dalle prime battute e ora sulla piegata si è accodato in seconda posizione la femmina di Roberto Vecchione, in schiena FaceTime DVS, maschio di VP dell'Annunziata, 600 iniziali, piuttosto svelti e giro che se ne va in 1, 2,9 con un rallentamento sensibile nel secondo quarto, 32,9 dopo il 30 iniziale e ora sposta nuovamente però il Marajà, va contro il FaceTime Bourbon, Physique Durol insiste su FaceTime DVS quando siamo al chilometro 118,9 e ora 500 dalla conclusione, i due seguiti ora da Frivola Griff che cerca di avvicinarsi, paletto di 400 metri finali, insiste ancora Physique Durol che mette ormai Cavallo davanti all'avversario, mentre sbaglia Frivola Griff, è passato in vantaggio Physique Durol che entra in vantaggio in addirittura d'arrivo, ultimi 100 metri di gara, Physique Durol viene a concludere netto vincitore, assegno dunque Roberto Vecchione con Physique Durol, il secondo posto per FaceTime DVS, al terzo chiude Furia Love Baldo, tempo finale di 1,18 con 38 a chiudere, 35 il penultimo quarto, un bel debutto comunque per Physique Durol, Roberto Vecchione in sediolo per il team Holger Ellert per conto della scuderia Golfo dei Poeti, primo piano per Physique Durol che già aveva fatto un'ottima prova di qualifica, bene anche FaceTime DVS che ha trovato un avversario al momento superiore, è girato di fuori per parte della corsa e alla fine ha avuto ragione, ha sbagliato invece Frivola Griff che era il terzo incomodo e se l'è giudicato così Furia Love Baldo. Grazie a tutti, grazie a tutti.